Vengo da Vermiglio, il film è ritornato a casa ieri, hanno fatto una festa enorme e adesso arriviamo qui a Trento città, è comunque capoluogo, quindi Trentinità e siamo curiosi e adesso vediamo com'è andata la visione, quali saranno i commenti. Non sono fermata da Venezia a Toronto, a Vermiglio, emozioni diverse ma un sacco di momenti bellissimi, davvero, niente, una ricchezza. Adesso devo promuovere il film e quindi sarà quello un lavoro in sé, poi vedremo.